Francesco Paolo, lo spiego anche a te, le series sono il nuovo modo che ti dà TikTok di dare ai tuoi utenti dei contenuti che riguardano la tua abilità, la tua professione. Molti mi hanno chiesto, ma tu fai lezioni di edizione? Invece che chiedere 50 euro all'ora, come si fa normalmente per fare delle lezioni di edizione, ho deciso di pubblicare nella sezione series delle lezioni di edizione, per cui con manco 10 euro, 9 euro, 8 euro, non me lo ricordo nemmeno quanto costano, ti compri tutto il corso, tutte le 10 lezioni di edizione, te le guardi poi con calma quando hai tempo, tanto stanno lì e nessuno te le tocca, credo che una volta acquistate uno possa averne accesso ogni volta che ha voglia. Quindi basta andare in TikTok slash series, series, oppure andare sotto il mio nome nella home, trovi serie, series, che è l'inglese di serie, immagino, così è, e poi cerchi Fabio Brescia, lezioni di edizione. Ti ringrazio.